A un anno dall'edizione della nostra amministrazione abbiamo fatto il punto della situazione, delle cose che abbiamo fatto in questo anno, delle cose che stiamo facendo e delle cose che vogliamo fare in futuro. Borgomezza Valle vuole essere un laboratorio politico nel senso nobile del termine, amministrativo per il ritorno delle gente in montagna. Come si può fare? Secondo noi quello che stiamo facendo è la contribuzione, diamo 1000 euro a ogni nuovo nato, diamo uno sconto di 900 euro alla mensa dell'asilo di Valle, diamo 2000 euro alle nostre nuove attività, vogliamo scontare totalmente la tariffa dei rifiuti per le attività esistenti, quelle vecchie, naturalmente la tassazione al minimo, non abbiamo la Tasi. Quindi stiamo procedendo con una politica di contribuzione sul modello, naturalmente nel piccolo della Svizzera e dell'Austria, perché loro hanno dei bilanci molto più ampi di noi, fortunati loro. Però stiamo dando l'esempio, ci stiamo muovendo anche sul turismo, sul turismo è fondamentale un rapporto con gli operatori del Lago Maggiore, perché portare una piccola percentuale di tedeschi e di olandesi sulle nostre montagne è fondamentale. Stiamo lavorando con dei tour operator e vedremo nei prossimi tempi di portare appunto dei pullman in valle e fare vedere le nostre specialità. Noi abbiamo lo specchio che è andato sulla ribalta nazionale, stiamo finendo un percorso che va allo specchio di Viganella, partendo dal centro di Viganella e tornando a bordo al villaggio buddista. Le cose magari che per l'ossolano sono un po' scontate, ma per il turista internazionale, il turista della città anche italiana sono sicuramente molto interessanti. Avremo un progetto che si chiama Ale di Pietra per dare la possibilità a dei non residenti o anche residenti di comprare delle case a zero o a metà prezzo per risistemare tutti i borghi che abbiamo. Borgo Mezzavale ha una decina di frazioni, quella sicuramente più significativa dove un borgo dovrebbe ritornare nel medioevo perché ha ancora le strutture antiche Viganella e anche questa è un'iniziativa che va in questa direzione. Abbiamo a fine settembre un workshop internazionale con l'Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, arriveranno una trentina di giovani da Austria, Germania e mezza Europa a studiare dei progetti di sviluppo, di sistemazione dei nostri borghi antichi. Quella è una collaborazione che nasce da un po' di tempo con il professor Adolf Franchini, siamo anche andati noi in Politecnico, quindi sarà un appuntamento importante. Loro staranno qua 30 giovani più i professori universitari sul nostro territorio per 15 giorni, daranno anche da lavorare alle attività del territorio. Questa è un'iniziativa pesante che vogliamo fare. Un appuntamento importante sabato prossimo alle 15.30 sempre qui a Casavanni, inviteremo anche il sindaco Daurano che con la sua ziplina ci ha fatto vedere, ha fatto vedere a tutto il viceo come si fa turismo ed è super in linea con quello che abbiamo anche in mente noi. Il mio invito è che la popolazione, l'associazione del paese di Borgo Mezzavalle e della Valle Antrona, perché io lavoro anche per tutta la Valle Antrona, capiscano quello che di buono stiamo facendo e vengano a queste iniziative proponendo delle idee e dei progetti, perché se siamo solo noi, se solo Preioni, solo la sua lista che va avanti con queste iniziative non arriviamo da nessuna parte. Se facciamo una bella squadra con l'associazione, tutti gli operatori economici della Valle sono convinto che dei risultati pesanti li porteremo. Mi auguro che anche in Valle Antrona, dove si lavora in primis, la gente ci venga dietro, anche l'associazione, gli operatori economici, infatti li invito tutti sabato alle 15.30 presso Casavanni per parlare di progetti per lo sviluppo della Valle Antrona, lo sviluppo turistico, comunicativo, associandoci anche a società del settore per fare una cosa diversa, riportare qualche turista dal Lago Maggiore alla montagna, di tanti olandesi e tanti tedeschi che ci sono, una politica per le case a zero, le case a metà prezzo, l'hanno già fatto in tanti comuni, a Gangi, in Sicilia hanno ribaltato un centro storico, verrà da noi il sindaco a spiegarci come si fa, cercheremo di trovare dei cittadini disposti a cederci le loro abitazioni, le loro vecchie baite, magari in disuso, magari in pessimo stato, per regalarle a turisti e a gente che può farle ritornare a nuova vita. Adesso lo faremo un convegno del settore con gente che curerà i vari aspetti per fare una delibera puntuale e soprattutto per coinvolgere la gente e far sì di acquisire un discreto numero di abitazioni e di baite da mettere a disposizione su questa iniziativa.